Per questa foto si è tolto la vita. Gianmarco Lorito, 44 anni, siciliano, vigile urbano palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano, si è sparato un colpo di pistola all'alba di una giornata di lavoro. Una decisione maturata negli ultimi giorni, dopo la valanga di insulti che gli era arrivata dai social. Tutto inizia alla fine di gennaio, quando il 44enne parcheggia l'auto di servizio in un posto riservato ai disabili, fuori dall'Università di Bergamo. Qualcuno scatta una foto, la pubblica in rete. Da quel momento sul web si scatena l'indignazione contro il vigile. Lui chiede scusa, decide di non restare indifferente, prende un foglio di carta e scrive una lettera dove mette nero su bianco il suo mea culpa. Non solo, si automulta ed evolve la somma all'Associazione Invalidi Civili. Ma la gogna in rete non si ferma. Per Gianmarco un'umiliazione troppo grande, i colleghi lo hanno visto incupirsi sempre di più. Fino a quando si è chiuso nell'auto di servizio e con la pistola d'ordinanza ha messo fine alla sua vita. A dare l'allarme è stata la ex compagna. È una sconfitta per tutti, ha commentato il sindaco di Palazzolo.